Tre cose che non sono integratori che puoi fare oggi per aiutare a regolare i tuoi livelli di cortisolo. Regolare i livelli di cortisolo dipende dall'equilibrio tra il tuo sistema nervoso parasimpatico e il tuo sistema nervoso simpatico, che è la risposta di lotta o fuga. Essere in modalità lotta o fuga tutto il giorno ovviamente non è ideale per i tuoi livelli di cortisolo. Quindi la prima cosa che voglio che tu faccia è prenderti 10 minuti prima di andare a dormire e fare il cosiddetto doppio respiro, che è stato scientificamente dimostrato per aiutare a ridurre l'ansia e regolare il tuo sistema nervoso. Fai due rapide ispirazioni seguite da una lunga ispirazione. Così. Fai questo per qualche minuto prima di dormire. È ottimo per aiutare a ridurre i livelli di cortisolo. Questo ti aiuterà effettivamente ad attivare il tuo sistema nervoso parasimpatico, portando a un sonno di migliore qualità. Migliore è la qualità del sonno, più regolati saranno i tuoi livelli di cortisolo. La seconda cosa è spegnere tutte le luci a soffitto almeno 60 minuti prima di andare a letto. Il modo in cui funziona il nostro ritmo circadiano è che i livelli di cortisolo sono più alti quando ci svegliamo e si abbassano tonicamente durante il giorno. Quindi sono più bassi prima di andare a dormire. Questo dipende anche dalla luce, quindi se spegni tutte le luci il tuo corpo produrrà naturalmente melatonina, portando a un sonno più riposante. Questo mi porta al terzo e ultimo punto. Esci fuori quando ti svegli. Cammina al sole senza occhiali per almeno 10 minuti. Questo ti aiuterà a regolare i tuoi livelli di cortisolo e a mantenere il ritmo circadiano nella giusta direzione, cosicché ti sentirai assonnato o assonnata quando devi sentirti assonnato.